Harry Potter non deve tornare ad Hogwarts. Questo non è il mio posto. Il mio posto è nel tuo mondo. Dobby deve farlo, signore. Cosa ci fate qui? Ti salviamo, naturalmente. Bethunia sta scappando! No, 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 no! Lucius Malfoy. Finalmente ci conosciamo. Capelli rossi, espressione vuota, malandato libro di seconda mano. Voi dovete essere i Weasley. Ci conviene aspettare vicino alla macchina. La macchina? Ferma, ferma, ferma! Devo chiedervi di non urlare. Potrebbe aizzarli! Per piacere, mettetemi giù! Peschi, pixi, pester, nomi! Immobilus! Perché è sempre a me? Harry, aspetta! Non correre! La camera dei segreti è stata aperta. Nemici dell'erede temete. Tu hai ammazzato la mia gatta! Non è morta, Argus. È stata pietrificata. Chi di voi sa dirmi le proprietà della radice della mandragola? Si usa per riportare chi è stato pietrificato al suo stato originale. Feraverto. Feraverto! Quella bacchetta va sostituita, signor Weasley. Professoressa, mi chiedevo se poteva parlarci della camera dei segreti. Serpe Verde aveva costruito in questo castello una camera nascosta. Solo l'erede sarebbe stato capace di aprire la camera. Salve! Dobby! Harry Potter sarebbe dovuto tornare a casa quando ha perso il treno! Cose terribili stanno per accadere ad Hogwarts! Serpen Sartia! L'ho detto solo per disarmare! Saiagashashi! Sei un rettilofono! Che cosa sono io? Salazar Serpe Verde era un rettilofono. Parlava con i serpenti anche lui. Morite tutti! Ero qui che mi facevo gli affari miei e qualcuno ha pensato che fosse divertente tirarmi addosso un libro. Tu sai qualcosa riguardo la camera dei segreti? Vi avverto, potreste avere un piccolo shock. Hermione! Che cos'è? Delle molte bestie spaventose che vagano sulla nostra terra, nessuna è più mortale del basilisco. Il mostro nella camera dei segreti è il basilisco. È un serpente! Una luna è stata portata dal mostro all'interno della camera. Chi è che il mostro ha rapito Minerva? Jimmy Weasley! Che cos'è? Sembra un serpente. L'avventura finisce qui, ragazzi! Oblidiate! Ginny! Ginny! Svegliati! Svegliati! Ora il serpentese non ti salverà, Potter. Obedisce solo a me! No! No! Signor Malfoy, ho una cosa che le appartiene. Non so di cosa tu stia parlando. Il padrone ha dato a Dobby un calcino! Dobby è libero! Mi hai fatto perdere il mio servo! Lei non farà del male a Harry Potter! Oh! Harry! Hermione! Mi hai fatto! Mi hai fatto! Mi hai fatto! Mi hai fatto!